Buon salve, bentornati su No Mamamazzo. Oggi vorrei parlare con voi di Ghostbusters 3. Avete sentito bene. Ghostbusters, terzo episodio. E no, non mi sto riferendo a Ghostbusters The Video Game del 2009 ambientato nel 1991. Non mi sto riferendo a quell'orribile, disgustoso reboot del 2016. Orribile e disgustoso. Perché sembra una parodia di Ghostbusters. Se fosse stata una parodia di Ghostbusters sarebbe stato anche un bel film, ma non è una parodia. Era un reboot. Caso vuole che ci fossero state anche degli interpreti di sesso femminile, ma non fa schifo per quello, ok, femministe? Non fa cagare per quello, fa cagare per un altro motivo. Ma sto parlando di Ghostbusters del 2020, GB2020, che uscirà appunto l'anno prossimo. E ne sto parlando perché si sono appena conclusi i 68 giorni di riprese. Il regista di questo film è Jason Reitman, figlio del regista della biologia originale Ivan Reitman, nonché anche attore. Ha fatto una piccola comparsa in Ghostbusters 2. Vi ricordate il bambino che diceva a Ray e Winston che sapete, mio padre dice così che voi vendete fumo e merda. Ecco, quello è Jason Reitman, il regista di Ghostbusters 2020. Lo chiameremo Ghostbusters 2020 a scanso di equivoci. Ma cosa vedremo in questo film? Perché, insomma, ragazzi, in un videogioco, come nel videogioco del 2009, è facile fare un prodotto ed ambientarlo qualche anno prima, in modo che si vedano ancora i Ghostbusters belli giovani e in attività. Ma, insomma, è un pochino più difficile farlo in un film. Quindi questo film del 2020, con tutta la probabilità, sarà ambientato nel 2020. Quindi vedremo, se vedremo i Ghostbusters originali, li vedremo chiaramente in età pensionabile, quindi scopriremo quanti contributi pagano per l'attività di disinfestatori dell'occulto e del paranormale, e probabilmente riprenderanno in spalla gli zaini protonici per un'ultima grande battaglia, per poi, chissà, passare il testimone a una nuova legione di Ghostbusters in un universo dove questi acchiappafantasmi originali esistono, perché appunto il problema del reboot del 2016 è che è stato un reboot anche a livello narrativo, ovvero in quel film gli acchiappafantasmi dell'84 non erano mai esistiti, e gli attori che hanno fatto un cameo in quel film non interpretavano i ruoli, cioè hanno fatto tutte le scelte che potevano fare, ne hanno fatte sbagliate. Ma se volete, se proprio insistete, ne parliamo in un video dedicato, magari in un giorno orrendo, non so, tipo il giorno dei morti, parliamo di quel reboot. Nulla, allora, cosa vi aspettate da questo film? Cosa io mi aspetto da questo film? Innanzitutto, io ormai le speranze le ho perse, nel senso che io sono stato molto felice del videogioco del 2009, che è stato a tutti gli effetti un terzo capitolo della saga, tant'è che ci sono le voci originali degli attori, degli acchiappafantasmi. Perché è stato fatto il videogioco nel 2009? Perché da quando è uscito Ghostbusters 2, nell'89 fino al 2009, De Necroida ha sempre tentato di far uscire un terzo capitolo, però non c'era mai stato verso, perché Bill Murray, che come ho già detto nel video su Ghostbusters 1, è sempre stato un po' una prima donna, non ha più voluto interpretare il ruolo del Ghostbuster. Oltre a questo c'è stato, pare, anche un litigio con Harold Ramis, l'attore che ha interpretato Egon Spankler, nonché sceneggiatore delle due pellicole, e quindi appunto per questi motivi il film di Ghostbusters 3 non è mai stato fatto, non è mai stato fatto, tant'è che si sono arresi nel 2009 a tramutare questo film in un videogioco, e persino lì Bill Murray era titubante sul prestare la voce al personaggio. Che palle Bill Murray! Io sono... Cavoli, tutti amano Bill Murray, tutti i fan dei Ghostbusters adorano Bill Murray, e per carità io lo apprezzo, ma nessuno riesce a rendersi conto che è a causa sua, se non abbiamo avuto un Ghostbusters 3, è a causa sua se non ci sono state molte cose nel franchise dei Ghostbusters, e forse è anche a causa sua che abbiamo avuto quell'orribile reboot del 2016. Però gli si perdona tutto perché molto probabilmente è anche a causa sua, se Ghostbusters ha avuto un successo così mondiale. Quindi vabbè, Bill Murray sei simpatico, mi sta un po' sulle palle il tuo atteggiamento da prima donna, in una saga comedy, comedy fantasy, però vabbè. Cosa succede? Che sono riusciti finalmente a fare questo terzo capitolo videoludico nel 2009, poi purtroppo nel 2014 Harold Ramis è venuto a mancare e quindi hanno rinunciato totalmente al discorso del terzo film e hanno fatto e si sono lanciati su questo reboot del 2016 che come tutti sappiamo è stato accolto in maniera molto arrabbiata dai fan, tant'è che i fan più trogloditi e più ignoranti hanno espresso il loro dissenso facendo credere che il motivo per cui il film era una merda era perché c'erano dei Ghostbusters femminili, invece no, non è affatto così, anche perché Ghostbusters femminili esistono, la prima era Janine, che ha preso, abbracciato il fucile protonico già nei cartoni animati, poi c'è stata nella... se seguite i fumetti che sono in continuity con i film e il videogioco della IDW, se seguite questi fumetti saprete che anche Katie Griffin, che è un personaggio che è stato ispirato dal cartone Extreme Ghostbusters, che anche lei è il primo Ghostbusters femminile ufficiale, insomma ci sono sempre stati Ghostbusters femminili, però questo film ha fatto cagare perché appunto ha resettato l'universo dei Ghostbusters, ne ha creato uno parodistico dove le battute, sì quelle che erano maschiliste, erano oscene, erano da film dei Vanzina, con tutto rispetto per i Vanzina, e quindi ha avuto uno scarsissimo successo. Grazie a questo scarsissimo successo, qualcuno, Jason Reitman, ha pensato di rimettere mani al progetto Ghostbusters e ridare il film, ridare la saga in mano ai fan, questo è il live motive di questo film, voglio ridare questa fantastica saga dei Ghostbusters di nuovo in mano ai fan, ok Jason Reitman, tu mi dai la saga dei Ghostbusters di nuovo in mano, però siamo comunque nel 2020, cavoli a me vedere i Ghostbusters in età pensionistica non è che ispiri molto, ma detto questo parliamo un attimo della trama, di quello che si può capire da internet della trama, e i protagonisti sono una madre single con due bambini e c'è anche Paul Rudd, l'antman della Marvel Cinematic Universe, c'è Paul Rudd che pare sia un insegnante, però un insegnante di una scuola estiva, ed è anche, caso vuole, che sia un sismologo che è molto incuriosito da qualcosa che sta accadendo, quindi da dei terremoti che stanno accadendo, dove vivono. Dove vivono non è New York, quindi grande personaggio, perché New York non è solo una città, non è solo un background, ma è un personaggio. Grande personaggio assente, con tutta probabilità, sarà New York, perché il film probabilmente è ambientato in campagna, si vede la Ecto Mobile, la Ecto 1, chiusa in un fienile, il titolo provvisorio del film, quello che danno mentre girano per non farsi sgamare, è Rusty City, città arrugginita, quindi molto probabilmente il film non sarà, anche per una questione di budget, non sarà girato, non è stato girato a New York, quindi grande assente dalla saga Ghostbusters New York. New York comunque per i Ghostbusters è significativo, quanto per Spider-Man. Insomma, è un peccato che New York non ci sia in questo terzo film. Però magari potrei sbagliarmi. Secondo me, come può legarsi questa trama ai nostri amati acchiappafantasmi? Si parla appunto di una madre single con due bambini. Vuoi che, molto probabilmente, questa madre single è la vedova di Egon Spengler, che appunto magari ha avuto, in quanto nerd, come si sa noi nerd, figliamo tardi, probabilmente ha avuto una moglie in tarda età, e quindi ha una moglie, così a occhio mi sembra, sui 40, sui 50, mentre Egon dovrebbe averne sui 70. ha avuto questa moglie, quindi questi figli anche in tarda età, che appunto sono piccolini, e potrebbe essere la vedova di Egon Spengler. Questo potrebbe collegare, diciamo, una presenza del personaggio di Egon Spengler, dove Egon Spengler in carne e ossa non può esserci, per ovvi motivi. E potrebbe esserci questo come collegamento. Questa moglie, questa madre single, potrebbe magari contattare gli altri acchiappofantasmi, ci potrebbe essere Ray, Peter e Winston, che tornano a dare una mano alla vedova di Egon. E magari, perché avanza uno zaino protonico, Paul Rudd potrebbe diventare il quarto Ghostbusters. Paul Rudd, che con il suo carattere, o meglio, il carattere che ha il personaggio di Scott Lang in Ant-Man, che però è anche abbastanza quello dell'attore Paul Rudd, potrebbe essere un fantastico nuovo Venkman. Tant'è che io, francamente, se proprio si doveva fare un reboot, ma badate, reboot non significa per forza che si resetti tutto quello che c'è stato. Per esempio, Star Wars, episodio 7, 8, 9, hanno rebuttato la saga senza annullare i vecchi episodi. Al di là del... che possono piacere o meno. A me non piacciono. Però sono riusciti a fare un reboot della saga senza cancellare quello che c'è stato. Si può fare un reboot della saga anche cambiando gli attori, ma mantenendo quello che c'è stato. Per esempio, un altro reboot, anche esso abbastanza sfortunato, della saga di Superman è Superman Returns. Superman Returns è, diciamo, un reboot della saga di Superman degli anni 70, che si colloca dopo il secondo Superman e cancella quegli obbrobri di Superman 3 e 4. Purtroppo anche Superman Returns non ha fatto successo, però l'idea è quella. Per ovvie ragioni non c'era Christopher Reeve, quindi hanno chiamato Brandon Routh per interpretare Superman. Si poteva fare una cosa del genere. Paul Rudd poteva essere Vinkman, poteva essere un Vinkman, un Vinkman quarantenne, cinquantenne, come sarebbe stato se il film fosse appunto davvero ambientato nel 91 come nel videogioco. Quindi avrebbero potuto mantenersi Peter, Ray, Egon e Winston, ma affidandoli a nuovi attori. Però purtroppo, purtroppo la comunità dei fan dei Ghostbusters è sia la migliore che la peggiore che ci possa essere, perché amano in modo talmente irrazionale il prodotto che non riescono a concepire l'attore slegato dal personaggio che lo interpreta. E quindi è capitato proprio di litigare in questi giorni su uno dei tanti forum di Ghostbusters per questa ragione. Secondo me, invece che vedere gli attori che vanno a ritirare il cedolino della pensione della loro attività di Ghostbusters in questo film del 2020, potevano tranquillamente fare un terzo film ambientato negli anni 90, dato che va molto di moda la nostalgia, la nostalgia, potevano ambientare questo film negli anni 90, dove appunto i Ghostbusters interagivano con i primi telefonini, queste cazzate varie, e i volti dei personaggi sarebbero stati interpretati da altri attori. Ragazzi, facciamoci una ragione. Harold Ramis è morto, purtroppo. Dene Croyd è invecchiato anche lui, Bill Murray è visivamente invecchiato, Ernie Hudson, come si sa, gli afroamericani hanno la fortuna di dimostrare meno l'età che portano, però comunque sono tutti invecchiati, ragazzi. Ma che cazzo ce ne frega di vederli a quell'età lì, con tutto il rispetto per le persone anziane? Io vorrei vedere loro a quell'età, ma vorrei vedere anche cos'è successo prima e non lo vedrò mai. Perché non lo vedrò mai? Perché ci si ostina a non far vedere quella cosa a livello cinematografico. Mi devo accontentare, tra virgolette, perché i fumetti sono fantastici, però mi devo accontentare di vedere quello che è successo dopo Ghostbusters 2, immediatamente dopo Ghostbusters 2, solo nel videogioco e solo nei fumetti della IDW. ma non vedrò mai un film mentre erano ancora in attività, non vedrò mai un terzo film con loro che sono ancora in attività, vedrò un terzo film con loro che sono pensionati. Ma chi cazzo se ne frega? Però dal momento che il film, il reboot del 2016, è stato talmente una merda, questo film che sta arrivando adesso sembra oro colato. Non sarà oro colato, ve lo dico già, ci sembrerà un capolavoro, perché ci hanno dato una spruzzata di merda in faccia tre anni fa talmente forte che questo sembra una sciacquata d'acqua fresca che ci toglie appunto la suddetta merda dalla faccia. Ma tutto lì, cioè se non ci fosse, paradossalmente, se non ci fosse stato il reboot del 2016, questo film non ci sarebbe piaciuto, poi per carità gli incassi io credo li farà perché porterà un sacco di fan al cinema che poi per questo motivo spargeranno la voce di andarlo a vedere perché rispetto al reboot questo sembrerà una manna dal cielo. Però qualitativamente, a parer mio, si sarebbe potuto fare tutt'altro se solo gli attori avessero Dan Eccroid per primo avessero voluto sganciarsi dal proprio personaggio. Dan Eccroid per primo ma anche i fan, soprattutto i fan americani che probabilmente hanno visto gli attori molto legati alla stand-up comedy del Saturday Night Live negli anni 70 e non riescono a scindere scusate l'attore dal personaggio. D'altronde anche noi non riusciremmo mai a vedere Pedor, figlio di Khmer, interpretato da qualcuno che non è Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo. Quindi penso che per il pubblico americano il concetto sia questo. Però è anche vero che Ghostbusters, a differenza di Blues Brothers, per esempio, non è mai salito su un palco del Saturday Night Live. è semplicemente nato al cinema da persone che hanno fatto il Saturday Night Live. Quindi appunto è come se Aldo, Giovanni e Giacomo facessero un film con personaggi mai portati nei loro sketch comic e questi personaggi avessero un tale successo da diventare più grandi di loro, più grandi dalla loro proprietà intellettuale e che tot anni dopo uno volesse appunto riproporre questi personaggi, questo universo che hanno creato con nuovi attori. Perché gli attori sono troppo vecchi. Però non si riesce a scendere questa cosa. Forse, non lo so, sono... sono solo io che penso quadrimensionalmente. Non lo so. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che non la pensate come me perché tanto lo so che sono l'unico che la pensa così. Comunque scrivetemi la vostra nei commenti e fatemi sapere come avreste voluto Ghostbusters 3 se vi va bene così come verrà prodotto nel 2020 se invece avete tutte altre idee o fatemi sapere tutte le vostre opinioni. Se scrivete nei commenti con l'hashtag che vi devo salutare vi saluterò in uno dei miei prossimi video alla fine del video. Prima di salutarci, dato che non l'ho detto all'inizio vi ricordo di iscrivervi al canale di mettere un bel mi piace di attivare la campanella delle notifiche in alternativa di ricordarvi che i video escono tutti martedì e venerdì di condividere il video con tutte le persone che amano i Ghostbusters iscrivetevi anche agli altri miei social tutti i vari social network Instagram c'è anche un canale Telegram dove siamo in tre una è mia nonna e con questo è tutto io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti